D'accordo, vorrà dire che andremo noi due a... Non c'è proprio nulla! Amore? Chi sei? Amore! Non è che... Non rispondi perché urlo o perché non riesci a sentirmi? Porca p***a! Voglio che ti siedi sul divano. Non sto scherzando. Ok, però perché prima tu non lascio andare mia moglie? La lascio andare se tu ti siedi sul divano.